... ... Francesco, lei ha sentito cosa accadita a televisione? Lei ha sentito bandenta, bandenta, verda? Ma non ci sarebbero voluti ancora milioni di anni prima che accadesse una cosa del genere? La verità è che queste notizie o ipotesi arriveranno anche in paese. Ma qui le ipotesi bastano a creare dei problemi. Tanti problemi. E tu cosa farai? Luisa, cosa c'è da fare? Buongiorno. Buongiorno. Ah, guarda, è una volta che si riposò, ma durmò, ma fumo niente. Certo che è possibile. Ma permesso di debattere. Magari chiudiamo il comune, mandiamo le persone a casa. Guarda che qui la gente si è sempre sposata, non sanno neanche cosa vuol dire convivere. Alla sua figlia, Anna, ha convivuto come le bestie. No, qui la gente è cattiva, perché lo sai pure tutto quello che ci tirano dietro. Ma parla a noi, se giudo ti dà anche, hai una nuova regola, hai una vergogna, oltre che non sei tanto. Sei sicuro di non far marci vedere qualcosa? Sentro, faccio una strage. Dicono che l'amore sia cieco, ma forse siamo solo noi che non vogliamo vedere. Ma poi, l'hai mai vista un preve che sta come un delinquente, un assassino? Hai ragione, un assassino? Lui ha qualcosa dentro, qualcosa che sa di morte. Ma che cosa dobbiamo fare, Francesco? Letta all'arpeuta! Lui ha qualcosa di Jerome e lei? Ma che cosa dobbiamo fare, Francesco? ... Ma che cosa dobbiamo fare, sono sempre che, ma che cosa dobbiamo fare. È proprio le cose che non hanno preso, Ma che cosa dobbiamo fare, Grazie a tutti.